Dall'arretramento della ferrovia all'interramento della statale, il sindaco di Pesro Matteo Ricci intende ulteriormente irrobustire l'elenco delle opere pubbliche in grado di passare dalla casella dei progetti irrealizzabili a quella dei cantieri concreti e finanziati. Per la statale, all'intersecazione fra Viale della Vittoria, Viale della Repubblica e Largo Aldomoro, l'idea è ormai nota e ha una progettazione già in stato avanzato. L'obiettivo di Ricci è quello di interrare la statale su Viale della Vittoria con circa 6 metri di profondità e scavi che partirebbero molto prima dell'intersecazione semaforica con Viale della Repubblica. Semafori che andrebbero sparendo creando un'unica lunga passeggiata senza interruzioni da Piazza del Popolo alla Palla di Pomodoro. Ricci vuole aggiungere anche questa eredità con un finanziamento da ottenere prima della scadenza di fine mandato. Finanziamento che si pensava realizzabile grazie agli oneri di urbanizzazione dell'ex Bramante, ma il percorso continua in tal senso ad essere disseminato di ostacoli. Con o senza Bramante, l'idea è comunque quella di accendere un mutuo da 4 milioni, proseguire nella progettazione e mettere a gara l'opera fra 2022 e 2023.